Ed è un privilegio intervistare anche un personaggio eclettico come Marino Bartoletti perché di fatto è scrittore, giornalista, è stato capo dello Sporting Rai a Mediaset, esperto di musica, facciamo prima dire quello che non hai fatto e che non sei stato. Visto che il fil rouge di queste serate, di questi incontri riguarda appunto l'arca, che cosa è bene tenere a bordo e cosa buttare, ti chiedo dall'alto della tua esperienza che cosa ti senti di dire in merito, che cosa conservi e che cosa ti senti di lasciare. Anche qui faccio prima dire quello che non conservo perché io sono un conservatore seriale di tutte le cose, se qualcuno venisse in casa mia avrebbe la sensazione di essere davanti a un museo che va dall'ultima maglia di Zoff la 112esima fino a una dedica di Lucio Battisti, non so se questo è il senso della domanda. Intanto buonasera a tutti naturalmente, grazie. Io conservo la mia piccola storia Max, l'ho scritto proprio l'altro giorno su un post perché ognuno ha il suo 8 settembre, l'8 settembre di questo paese è un 8 settembre tragico di cui si è tenuta la ricorrenza, ammesso che sia una ricorrenza l'ottantesima proprio quest'anno. Il mio 8 settembre fu l'8 settembre di un ragazzo che aveva poco più di 20 anni, che era nato in provincia, cioè in Romagna, a Forlì, che si era messo in testa da grande di voler fare penso un po' il giornalista, che aveva già qualche piccola esperienza a livello locale e che però voleva misurarci con qualcosa di più importante, per cui prese un treno che non era esattamente un frecciarossa con mia madre che mi inseguiva dicendo cosa c'è a Milano che non c'è a Forlì, le mamme sono così, a Milano c'erano i miei sogni, le mie speranze, la mia sfida, la mia vita e bussai alla porta del guerri sportivo, mai pensando che poi neanche tanti anni dopo sarei diventato direttore del guerri sportivo di cui in quel momento era direttore Gianni Brera, allora se devo conservare qualcosa conservo quel giorno perché mi apparve Brera e Brera è inutile che dica chi è, è l'uomo che ha portato la cultura nel giornalismo sportivo, fra l'altro poi quando lo vidi mi sembrava così vecchio, perché quel giorno è il suo compleanno, il suo 52esimo compleanno, non avrei pensato che sarei arrivato 20 anni oltre per il momento al di là di lui, lui mi squadrò mentre batteva macchina sulla macchina da scrivere, sulla lettera 22, con le sue diceva lui ditone, plebè e questi tasti, ricavando degli articoli, dei fogli, delle cartelle incontaminate che un fattorino portava così come erano senza neanche correggere in tipografia e io non capì in quel momento se ero a Disneyland, se ero nella cappella privata del Papa che diceva a me se soltanto per me era una persona felice, sinceramente felice e anche abbastanza incredula all'idea di quello che si poteva prospettare, soltanto per quell'incontro che già mi appagava e ho sempre pensato che se io fossi stato il dottor Faust e fosse passato il diavolo in quel momento l'anima non gliel'avrei venduta, gliel'avrei regalata per la centesima parte che la vita professionale mi ha dato. Per fortuna il diavolo non c'era, per fortuna non ho dovuto vendere l'anima perché per fare questo mestiere mi è servito parecchio. E se la vita è un viaggio, che viaggio è stato il tuo? È un viaggio lungo, lungo come tutte le persone della mia generazione, io senza che vi cervellate sono nato nella prima metà del secolo scorso, nel 1949, fra quattro mesi compierò 75 anni. Baratterei e scambierei ben poche cose di questa vita, certamente qualche dolore personale, non professionale che la vita mi ha dato, però da quell'8 settembre in poi penso di essere stato molto fortunato, in piccola parte meritatamente fortunato, ma anche molto fortunato, anche perché ne parlavamo prima, io appartengo a una generazione ed è il motivo per cui ho potuto scrivere questi libri, che parla di personaggi che ho conosciuto, che ho incontrato, con cui ho viaggiato, con cui ho cenato, che ho visto ridere, che ho visto piangere. E parlo di Enzo Ferrari, parlo di Lucio Dalle, parlo di Marco Pantani, parlo di Pino Daniele, parlo di tutte le persone di cui tratto in questi libri. Credo che la mia generazione sia stata la più felice nel rapporto diretto con le persone e con i personaggi che poi abbiamo raccontato, perché c'era un'intimità che adesso purtroppo non è più ripetibile, adesso voi siete sbarrati dagli uffici stampa, forse anche giustamente, perché poi sono talmente tante le testate, i giornali, le emittenti televisive, per cui non è più verosimile che si possa avere questo tipo di rapporto. Quando qualche giovane collega come te mi chiede, ma tu come facevi a intervistare Maradona? Gli telefonavo a casa. Esisteva ancora il telefono a casa? Non c'era ancora il telefono cellulare, poi la mia storia con Maradona è molto lunga, perché comincia dal primo campionato mondiale che ho seguito dal vivo e ne avrei seguiti dieci dal vivo, così come ho seguito dal vivo dieci Olimpiadi. E poi nacque un rapporto, poi se vuoi ne parleremo di tante cose che riguardano lui e altri personaggi, Paolo Rossi. Un'altra nota margine, Maradona, o meglio Marino, è stato l'unico giornalista italiano insieme a Gianni Mina invitato al matrimonio di Maradona. Sì. Una giornata molto movimentata, no? Non è scritto nel mio curriculum vitae, però effettivamente è una cosa di cui a modo mio vado orgoglioso naturalmente, perché soltanto due giornalisti nel mondo invitò, entrambi coi baffi curiosamente, e due cantanti. Sì, fu un'esperienza molto movimentata per tanti motivi. Mi fecero firmare la consegna del silenzio per quello che avete visto? Sì, ma guarda, non c'era bisogno di farlo sinceramente, perché eravamo proprio amici sinceri. Certo. E quindi un'esperienza, sì, movimentata, perché comunque fece un matrimonio sobrio dei suoi, con 1500 invitati al... c'era un'orchestra sinfonica di 120 elementi, c'era un gruppo Rocca. C'era una banda di Tanghero, c'è un'altra cosa che non mi ricordo bene. Insomma, ci eravamo anche noi piccoli piccoli in questa fetta di storia. Lui affittò un giambo della aerolinea Sargentina, in cui caricò 130 amici veri dell'Italia. Fece una sosta a Madrid per caricare Valdano, Di Stefano e altre ancora, e poi arriviamo a questo matrimonio. Però guarda, perdonami se vado oltre, però qualcuno mi ha chiesto perché nel secondo libro, che è il ritorno degli dèi, c'è Maradona. I libri parlano del paradiso. E qualcuno ha detto, ma Paolo Rossi, certo che in paradiso, dove volete che sia, Paolo Rossi, la persona più buona, più gentile, più educata, più portata all'amicizia che abbia conosciuto, ma Maradona? Allora mi sono consultato, al di là delle mie convinzioni, con un teologo che mi ha detto, guarda che quando un artista, qualunque sia la sua arte, che può esprimere con uno scalpello, con un pennello, con la voce, con i piedi, anzi con un piede solo, mette questa arte a disposizione di un popolo, facendolo felice, dandogli la gioia, dandogli l'autostima, dandogli la speranza, e questo artista non può che essere in paradiso, assieme a Caravaggio e a tutti gli altri. Lui mi disse, già che stai due giorni a Buenos Aires, vai a vedere dove sono nato. Dato che Maradona evidentemente ha seminato anche questa percezione di bipolarismo, perché c'era sicuramente un Diego, un ragazzo meraviglioso, un Mr. Hyde, che ha fatto delle cose certamente non commendevoli, e ne abbiamo parlato io e lui, però è difficile giudicare gli altri, sapete, soprattutto quando non si ha la percezione da dove questi altri vengano e di che cosa sono impregnati. Io sono andato a vedere dove è nato Diego, a Viglia Fiorito, anzi a Viglia Fiorito, che è il posto più orribile, più degradato che io abbia mai visto in vita mia, e da lì comunque è uscito un essere umano, cioè Diego, una buona parte di essere umano, fra l'altro era una persona di una bontà straordinaria. Pensate che fra tutti coloro che non vennero invitati a quel matrimonio che venne pesantemente criticato per partito preso, c'erano anche tanti inviati italiani, i quali non so perché furono molto sgarbati, molto scortesi, addirittura vomitarono cose inaccettabili su quell'evento che era in fondo un evento privato, e qualcuno disse non sapendo più cosa dire, e poi anche gli invitati del matrimonio erano brutti, a parte Memina e possiamo anche convenire, però c'è il Presidente della Repubblica che non era bellissimo, poi c'era il gota della politica, della finanza, dello spettacolo, eccetera, e poi è vero, c'era un tavolo con una quindicina di personaggi sinceramente inquietanti, caro questore, e sai chi erano quei personaggi inquietanti? I suoi amici di infanzia, quelli di Vigia Florito, quelli che erano sopravvissuti, quelli che non si erano ammazzati fra di loro, quelli che non erano in galera per aver rubato, per fame, quelli che non erano in galera per omicidio, e lui quel giorno, fra Presidente della Repubblica, giornalisti coi baffi, Tangheros, gota dello spettacolo, volle i suoi amici, quelli che erano sopravvissuti, volle gli ultimi, ecco, per me questo Diego, il mio Diego, non può che essere un paradiso. Bellissima testimonianza, tra l'altro il titolo della serata è Gli dei ci segnino la strada, allora arriviamoci a questi libri che è una trilogia praticamente, la cena degli dei, per ora, per ora, la discesa degli dei e il ritorno degli dei, ed è l'incontro di fatto in paradiso, no? Io parlo di luogo con l'L maiuscola, esatto, dove c'è un grande vecchio, questo è il grande vecchio che assomiglia molto a Enzo Ferrari, anzi è Enzo Ferrari, Questa è la discesa degli dei e questo è il ritorno dove ci sono in copertina Rossi e Maradona, anche perché, adesso ti racconto la genesi naturalmente, però, dato che la cena degli dei è uscito il 2 dicembre del 2020, qualcuno aveva detto, però nel primo libro non ci sono i calciatori, è vero, non se ne era sentita sicuramente la mancanza, ma rispetto a quel 2 dicembre, sette giorni prima era morto Diego e sette giorni dopo sarebbe morto Paolo, che quindi erano entrati a buon diritto in questo luogo, per cui ovviamente non potevo non metterne il secondo libro, non potevo dedicargli la copertina e anche dedicargli il libro, dicendo a Diego e a Paolo due grandi amici, prima che due grandissimi campioni, e mentre il primo libro, vabbè, faccio il riassunto, allora, qualche tempo fa un editore, gallucci, con cui avevo fatto dei libri per ragazzi, io non avevo mai voluto scrivere libri, fin quasi ai 70 anni, per tanti motivi, per pigrizia, per codardia, non so neanche io perché, non avendo più argomenti, io come i giornalisti, a un certo punto gli dissi, ma non lo scrivo un libro perché non si sente la mia voce, non si vedono le mie mani, e noi romagnoli le mani le gettiamo molto, poi non è che Dostoievski sentissi la voce o vedessi le mani. Alla fine poi feci questi tre libri che insegnavano l'etica dello sport ai più giovani, forse perché ero diventato nonno, forse perché era bello parlare con i ragazzi, e dopo quel trittico è venuto bene, lui mi ha detto perché non facciamo un libro per adulti, che ho detto così sembra una cosa sconveniente, voleva dire un libro per tutti, mi chiede se avevo un'idea, e Max se l'avevo un'idea, se l'avevo da quando era bambino, da quando non avevo i baffi, perché questa è la prima notizia che vi do stasera, io non sono nato con i baffi, e quel bambino ogni tanto bussa dentro di me, forse anche dentro di te, e ti fa delle domande, e ti dà delle ispirazioni, ti dice delle cose giuste, importanti, e quel bambino mi ha detto, ti ricordi quando eri piccolo e ti chiedevi, e poi ha continuato a chiederti ancora, ma dove vanno a finire i nostri campioni, i nostri miti, i nostri dei della musica, dello sport, dello spettacolo, quando sembra che tutto finisca? Non è possibile che non ci sia un luogo che li raccolga, dove possono ancora traslocare il loro talento, lo loro, sembra uno simoro, persino la loro gioia di vivere, la loro follia, la loro genialità, e allora il bambino cresciuto, con i baffi, ha detto, non è una brutta idea, perché non facciamo una cosa del genere? Ed è nata la cena degli dei, che ho affidato a questo grande vecchio, Enzo Ferrari, che è una persona che mi ha onorato della sua amicizia, anche se amicizia nei suoi confronti può essere una parola quasi grossa, spropositata, che mi ha voluto bene e ho voluto bene a lui, al punto che mi sono sentito in dovere di raccontare un Ferrari che non tutti hanno conosciuto, un Ferrari... Diverso da come tutti se lo immaginano. Sì, Max, perché Ferrari è percepito come una persona dura, scontrosa, cinica, forse anche cattiva, e non è escluso che fosse tutto questo, ma lo era perché doveva farsi una corazza di fronte alle devastazioni che la vita gli aveva apparecchiato dal punto di vista dei sentimenti. Gli era morto un figlio a 24 anni, quanti altri figli gli erano morti in pista. Però quel Ferrari aveva anche un'umanità insospettabile, una capacità di sorridere, un amore per la convivialità, ed è per questo che mi è venuto in mente di far organizzare a lui questa prima cena. Naturalmente lui, grande vecchio, per organizzarla nel luogo, deve chiedere il permesso al grande vecchio titolare che c'era da prima di lui, quello con la barba. Tra l'altro i due ragazzi hanno caratteri piuttosto difficili. Però alla fine riescono a trovare una sintesi. In questa cena lui invita dieci personaggi, dopo una selezione accurata, per cui scopriamo che non tutti poi erano in paradiso quelli che lui voleva, sette dei quali ha conosciuto e appartengono alla sua vita. Per cui Luciano Pavarotti, Lucio Dalla, Ayrton Senna, Tazio Novolari, due che non ha conosciuto, ma che sicuramente ha monitorato dall'assù perché hanno interpretato la vita e lo sporco, il coraggio che lui aveva sempre attribuito ai suoi piloti, cioè Marco Pantani e Marco Simoncelli. Poi un altro che era nato e morto prima di lui, ma che insospettabilmente appartiene alla sua vita, alla sua biografia. Nel secondo libro, quello di Rossi e Maradona, due di questi personaggi, non c'è più la cena, c'è gente che va, gente che viene, e due di questi personaggi scendono sulla terra per una missione di 12 ore, e nel terzo libro, dato che gli scrittori, soprattutto quelli anziani, si montano un po' la testa, che è questa, la cena degli dèi, i sei personaggi coinvolti e coordinati da Raffaella Carrà, che a sua volta era arrivata nel luogo, che è una specialista, è un know-how notevole per quanto riguarda gli incontri, scendono sulla terra, quindi il terzo romanzo, che completa questa trilogia, è fatto di sei piccoli romanzi favole di altrettanti personaggi che coronano il sogno di altrettanti ragazzi che vogliono diventare uno o una grande cantante, che ha come punto di riferimento Pino Daniele, e Pino Daniele in un certo modo le dà una mano, facendoli incontrare, uno parla a Pino Daniele e suona alle campagne, un segno. Pino Daniele fa diventare parlante una gatta nera che vive con questa ragazza, la gatta si chiama Ambriana, per cui le fa avere successo. Le mie figlie che l'hanno letto storico hanno detto, papà ma non ti drogavi a 16 anni, ti droghi a 70. Poi uno che vuol diventare pilota, possibilmente della Ferrari, viene aiutato da Ciro Vilneva a entrare in Formula 1, spero in anni migliori di questo, o nei prossimi. Chi lo sa, un ragazzo, una ragazza che vuol diventare olimpionica di atletica e viene aiutata da Pietro Vennea, una ragazza che vuol diventare attrice, che il suo sogno era parlare con Gigi Proietti. C'è una storia molto bella di Fausto Coppi della Dama Bianca. Poi c'è una storia di Fausto Coppi della Dama Bianca, che è quella per quelli come noi che hanno i capelli bianchi. Poi c'è un'altra storia, guarda che mi piace leggerti, perché se la trovo naturalmente. Sono tutti personaggi che in linea di massima hai conosciuto bene e intervistato, no? A parte Fausto Coppi, sono tutti personaggi con cui ho avuto dei rapporti molto importanti, sinceramente. Allora, le sei storie sono storie, ovviamente, a fin di bene anche questa. Cinque sono a fin di bene anche questa, in qualche modo è a fin di bene. Però questa non è la storia di qualcuno che vuole coronare un sogno. È la storia di un ragazzo, di fantasia naturalmente, un grande anchorman che sta per coronare il più grande sogno della sua vita. Mettiamo, che ne so, presentare il festival di Sanremo. Se parlo di Sanremo abbattetemi tranquillamente. che però viene sfiorato dal vento della calunnia, che è una delle metastasi più brutte di questo secolo, non soltanto di questo, amplificata dai social e quant'altro. Per cui la fine decide di farla finita. E c'è un personaggio, adesso devo trovare la pagina perché non era prevista questa lettura, che lo salva, facendogli capire che la vita è bella nel vero senso della parola. Dattemi un secondo che lo cerco. Tu intattieni la platea. Tanto a proposito, mi viene da sorridere, prima citavi l'aneddoto dei baffi. Mi hanno raccontato che nell'esperienza Mediaset sei stato l'unico giornalista che Berlusconi non amava molto chi portava baffi e barba. Tu sei l'unico che ti sei rifiutato di tagliarli. Io e Maurizio Costanzo. Mi fece tagliare anche a Gulli, se non ricordo male. Sì, Berlusconi era fissato, perché se qualcuno aveva la barba o i baffi voleva nascondere qualcosa. Io non volevo nascondere proprio niente. Mi faceva avere il lunedì, quindi all'indomani di Pressing, la nostra prima trasmissione sportiva, delle foto con un Photoshop primordiale per dire, guardi come sta bene senza baffi, non è vero. Oppure mi mandavano delle foto, erano gli anni della guerra del Golfo, non so se vi ricordate che c'era quell'annunciatore iracheno, un soldato trucido, un militare trucido con i baffoni, dicendo ma perché vuoi assomigliare a lui. Insomma, poi alla fine, dopo due anni di disturbi, gli dissi una cosa che non avrei mai dovuto dire, e cioè, di peli dovrebbe parlare soltanto chi li ha. E non l'ha prese bene. Non l'ha prese bene e tornai al mio guerri sportivo. Guardi che è triste che non trovi questa cosa. Ti ha distolto dalla tua ricerca. Questa è la storia di questo ragazzo che vuole fare la finita. Io, la scorsa estate, prima di scrivere questo libro, e sono libri che ho scritto di getto, questo libro l'ho scritto in 19 giorni, in una specie di raptus praticamente. È come se avessi scritto un articolo di 350 pagine. Chi mi chiede come si scrive in un libro, dico non lo so. Cioè, vado avanti e non so veramente cosa c'è nella pagina dopo. Però, qualche schizzo me l'ero fatto, e dato che avevo in mente di far salvare un ragazzo che vuole farla finita, avevo pensato a un personaggio che era l'unico che non avevo mai incontrato, e cioè Luigi Tenco. Luigi Tenco, come sapete, la vita se l'era tolta. Per cui mi piaceva l'idea che qualcuno che aveva fatto quella sciocchezza a qualcun altro dicesse non farlo. Poi, la vicenda di Tenco è molto opaca per tanti motivi. Qualcuno dice che non è vero che si è ammazzato. Non volevo cacciarmi in un labirinto complicato. E poi mi è venuto un colpo di genio. Nel senso che c'era qualcuno e questa storia l'aveva scritta prima di me. Quando nel 1968, vabbè, devo parlare di Sanremo, ma giuro poi non lo faccio più, Domenico Modugno, già vincitore di quattro festival di Sanremo precedenti, ricordate tutti quali, spero, no? 58 con Volare, 59 con Piove, 62 con Addio a Dio, 66 con Dio come ti amo. Quindi voleva vincere il quinto festival di Sanremo e presenta una canzone imbattibile, che era meraviglioso. La canzone è talmente bella che poi si è perpetuata nei decenni. E' meravigliosa la storia di un angelo vestito da passante che vede qualcuno che guarda l'acqua scura con la maledetta voglia di fare un tuffo giù e gli dice, ma non vedi com'è tutto meraviglioso, non vedi, hanno inventato la vita, il sole, l'amore. Per cui era come se lui mi avesse dato l'ispirazione per fare questa cosa ed è Modugno a questo punto, di cui poi, come tutti racconto, molti particolari e in buona parte inediti, che compie questa missione. Il protagonista si chiama Enrico. Si guardò di nuovo attorno, forse chissà per cercare inconsciamente uno sguardo amico che gli trasmettesse un ultimo bagliore di speranza, o forse soltanto per accertarsi che nessuno lo vedesse. Ma era solo, solo con se stesso, con la sua angoscia, con la sua spaventosa decisione. Solo, ma allora che gli stava appoggiando una mano sulla spalla. Girò il capo, non c'era nessuno. Che brutti scherzi fa il dolore. Esittò un attimo, poi fece l'ultimo passo in avanti. Io non lo farei. Era questo l'effetto della disperazione. Voci e suggestioni senza senso. Scrollò il capo come se volesse togliersi da torno un ronzio. Sappi, amico mio, che c'è un dopo e che in quel dopo il suo tormento, il tuo tormento per questo gesto diventerebbe eterno. Dunque non avessi risolto nulla. Chi era quell'uomo col bavero rialzato, seduto a due metri da lui, sui vecchi massi frangiflutti? Da quanto tempo era lì? Che voleva? Possibile che non l'avesse visto prima. Possibilissimo, sono arrivato adesso. Ma come? Gli leggeva anche nel pensiero. Enrico, credimi, non è una buona soluzione. Sapeva anche il suo nome, che significava tutto questo. La senti la canzone che arriva dalla radio? È di un ragazzo come te, della tua stessa età, che forse avrebbe meritato di vivere ancora. Per sé, per noi, per la musica, per tutti. Io c'ero, sai, quel giorno quando Luigi morì. C'era il giorno che morì. Che ci faceva quell'uomo a Sanremo? Aveva capito bene. Enrico guardava quella creatura con sentimenti strani, ma che voleva? Come si permetteva? Cosa sapeva di lui? Perché gli stava dicendo tutto ciò e soprattutto chi era? Non importa chi sono, ma una cosa te la voglio dire. Avevo gli anni che orai tu quando cominciò la parte più fantastica della mia vita. Certo, non sono stato lacerato da un dolore come quello che ora ti affligge, ma non pensare che per me poi sarebbero state sempre rose e fiori. Eppure un bel giorno, come per incanto, per me si spalancò un sipario, mi bastò allargare le braccia e otteni tutto quello che volevo e che non pensavo avrei mai avuto. Anche nel tormento, anche nella sofferenza, tanti anni dopo, non rimpiansi nemmeno una volta di averla potuta vivere, questa nostra bellissima, fottutissima, meravigliosa vita. vivila anche tu quegli o, non te ne pentirai. Ne vorrei credere. E allora dammi la mano e vieni via di lì. Hai tante cose da fare, tutte belle. Ma lei chi è? È importante. Per me sì. Sono uno che ha vinto qualche festival di San Re. Hai intervistato nella tua lunga carriera tantissimi personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, della musica, eccetera, tante personalità. C'è un personaggio che ti è sempre sfuggito e che avresti voluto intervistare? Sai, Gianni Minà ha intervistato Muhammad Ali e io quello non sono riuscito a intervistare. È vero che Gianni aveva questa agenda pazzesca su cui tanti hanno sorriso. Io mi ricordo che me la fece vedere sotto a Fidel Castro c'era Fabrizio Frizzi. E non so più quale magia la ricomponesse, la tenesse assieme. Grande Fabrizio che non per nulla è nel mio primo libro. Io sono affascinato da tutti questi racconti per tutte le insomma le persone i personaggi che hai conosciuto. Prima parlando con col direttore gli confessavo un po' l'invidia per tutti i personaggi per tutti i colleghi che hanno svolto la professione nei tuoi anni perché avevate un rapporto con i giocatori nella fattispecie per chi segue il calcio o con gli sportivi in generale che oggi è sempre più difficile da costruire per colpa un po' degli uffici stampa manager, procuratori insomma tutto l'ambiente della fretta anche che circonda che circonda insomma il calcio e un po' tutti gli sport. È un'involuzione? Guarda Max io ripeto che non baratterei con nulla il mio anno di nascita cioè forse anche perché ho avuto a che fare con una generazione di campioni di uomini autentici ogni tanto vi rileggo questi libri nel 1949 l'anno di superga per inquadrare io sono nato poche settimane prima che il grande Torino togliesse non dico la speranza all'Italia però ricordiamo che quelli erano anni in cui lo sport la speranza e l'orgoglio lo stava restituendo a questo paese un paese con le spalle ripiegate un paese in ginocchio un paese povero un paese sconfitto un paese avvilito un paese che aveva perso completamente la propria stima e che guardava fatalmente al mondo dello sport come qualcosa che potesse restituire la fierezza e allora avevamo Bartoli avevamo Coppi avevamo il grande Torino il grande Torino è una tragedia inenarrabile cioè il grande Torino era una squadra che aveva unito l'Italia per il grande Torino crollava ma non crollava la speranza perché addirittura l'Italia venne affratellata anche da quel dolore guardate io qualcuno mi chiede quando è maturata la mia vocazione a fare questo mestiere me lo sono chiesto a lungo anch'io per la verità e poi mi sono dato una risposta uno dei momenti di grande riscatto dell'Italia passò nel 1960 quando ci vennero assegnate le Olimpiadi le Olimpiadi di Roma e apro una parentesi per dire che io non ho mai maledetto abbastanza la sindaca di Roma quando rifiutò le Olimpiadi a venire perché voleva dire che non aveva capito nulla della storia di questo paese era in buona compagnia sì però mi ha addolorato molto il fatto che senza riflettere senza studiare senza capire ci abbia privato di qualcosa che forse poteva essere ancora adesso un enzima per fare qualcosa di importante quelle Olimpiadi ci vennero assegnate come dire per vedere se sapevamo fare qualcosa ci vennero assegnate nel 1952 quelle del 60 e l'Italia non tradì e Roma non tradì e Roma fece e organizzò quelle che sono rimaste le più belle Olimpiadi e più umane Olimpiadi del secolo dal punto di vista organizzativo oltre che naturalmente sportivo adesso si parla parlando di sostenibilità allora questa parola non esisteva ma chi organizzò quelle Olimpiadi e ridiede un'immagine meravigliosa all'Italia fece un esempio virtuoso di sostenibilità perché attingendo a quello che è il nostro petrolio e cioè la nostra fantasia la nostra creatività riuscì a fondere le possibilità economiche poche che comunque ci permisero di costruire delle infrastrutture che ancora adesso sono quelle di Roma quindi il più grande palazzetto dello sport del mondo fatto dal più grande architetto del mondo Pierluigi Nervi quello quello dell'Euro venne rifatto anzi costruito praticamente lo stadio Olimpico che venne consegnato con un anno d'anticipo per paura che ci ripensassero pensate in Italia è una cosa consegnata con un anno d'anticipo venne fatto tutto il compound del Flaminio il palazzetto lo stadio dove adesso purtroppo crescono le erbacce venne fatto il velodromo olimpico che è stato distrutto dalla dinamite qualche tempo fa venne fatto una cosa che vi potrà far sorridere venne fatto il villaggio olimpico fino alle olimpiadi precedenti gli atleti alloggiavano dove si poteva negli alberghi chi se lo poteva permettere nelle caserme nei conventi negli ostelli ma qualcuno ma qualcuno dice scusate stanno per cominciare gli anni 60 di cosa ha fame l'Italia in questo momento di lavoro e di alloggi e venne costruito questo villaggio olimpico in muratura che ancora adesso esiste ha una sua dignità che una volta finite le olimpiadi e ha fatto scuola in questo senso venne distribuito fra i dipendenti ministeriali statali provinciali regionali eccetera eccetera dove arrivarono i soldi ripeto qualcosa di bello di importante venne fatto ma dove non arrivarono arrivò il genio qualcuno disse ma ok non abbiamo i soldi per fare lo stadio per la ginnastica artistica ma noi abbiamo le terme di Caracalla chi altri ha una location come questa ci misero un po' di tribune e ancora adesso le immagini dei grandi ginnasti le terme di Caracalla li si possiamo vedere come se si vedesse un quadro d'autore non abbiamo un palazzetto per la lotta greco-romana ma abbiamo la basilica di Massenzio non abbiamo un palazzetto per la scherma ma abbiamo le gradinate naturali del palazzo della civiltà del lavoro all'euro addirittura l'evento culminante di quegli olimpiadi fu la maratona qualcuno dei capelli bianchi forse lo ricorda la maratona partì dal Campidoglio in un tramonto romano meraviglioso di un 11 settembre quando quella era ancora una data di felicità non di dolore percorse la parte storica di Roma uscì da Roma rientrò dall'appia antica e terminò nelle fiaccolate di quel settembre meraviglioso di Roma sotto all'arco di Costantino davanti al Colosseo vinse fra l'altro un etiope un ragazzo che fino a qualche anno prima come direbbe il nostro anno il nostro inno era stato schiavo di Roma vinse a piedi nudi a Bebe Bicchila pensate il grande sceneggiatore della storia cosa aveva inventato quella notte e da quella notte il mondo tornò a innamorarsi dell'Italia e forse anch'io mi innamorai ancora di più del mio paese e vedendo quelle emozioni che lo sport sapeva dare in quella declinazione probabilmente pensai chissà se un giorno quelle emozioni saprei trasmetterle anch'io in tutta l'immodestia credo qualche volta di esserci riuscita che opinione hai? so che li frequenti con una certa disinvoltura ormai dei social sai come tutti i boomer perché ho dovuto imparare questa parola ogni tanto qualcuno me lo rinfaccia dicendo si vede che lei è un boomer ma sai io mi sono avvicinato con pudore e inconscienza ma anche cercando di fare l'unica cosa che so fare cioè essere me stesso è chiaro che ogni tanto ti fanno imbestialire perché ci sono delle reazioni degli atteggiamenti dei commenti che sono immaginabili per la mia cultura e per la mia educazione però è anche vera una cosa che facendo le cose che so fare e cioè raccontando queste favole che sembrano storie o storie che sembrano favole arricchendole con un po' di conoscenza e nei social ogni tanto vorrei ralentare a qualcuno di miei interlocutori che un conto sono le opinioni e un conto è la conoscenza cioè quando qualcuno mi viene a raccontare a me chi era Lucio Dalla o chi era Enzo Ferrari o chi era Gianluca Vialli o chi era Diego Maradona mi viene a dire ragazzo lasciami lavorare però a parte questo devo dire che in una tribù enorme perché sono tanti quelli che mi seguono però mediamente c'è un livello di civiltà assolutamente accettabile fate salve le metastasi che ci sono fatalmente statisticamente e quando qualcuno sgarra io io sono portato alla risposta perché poi il mio berisportivo come forse saprai era un giornale di dialogo molto intenso con i lettori poi capisco che non ci sono argomenti per ragionare però sono gli altri che dicono gli altri follower come dite voi giovani che dicono a questi se vuoi stare nella persona nella pagina una persona seria comportiti con serietà anche tu quindi io alla fine è un esperimento positivo raccontavo prima prego prego a proposito del guerisportivo di come sono cambiati i tempi quando tornavo da scuola credo che uscisse il mercoledì martedì o mercoledì martedì o mercoledì c'era la pubblicazione del film del campionato che era una raccolta statistica e fotografica della giornata non solo fotografica di campionato c'erano anche i disegni dei gol esatto di Franco Bruna o adesso non mi ricordo Franco Bruna collaborare da Samarelli si chiama e adesso chiaramente è stato tutto bruciato dai tempi dai social da internet perché sarebbe improponibile una cosa del genere visto che la domenica sera uno si gioca tutti i giorni e poi la domenica sera è già tutto chiaramente fagocitato però è vero una cosa che comunque il potere e il fascino della carta e della lettura se quella carta è riempita bene ha ancora una capacità seduttiva che l'usa e getta della televisione non sempre ha anche a loro sa anche allora comunque comprare i guerri sportivi aveva visto i gol come minimo la domenica sportiva però vedere cristallizzate queste azioni fatte con arte raccontate con amore poteva essere un valore aggiunto addirittura dal punto di vista culturale che chi scrive dei libri o chi scrive sui giornali forse dovrebbe un pochino recuperare parole povere le cose è meglio farle meglio che non peggio ecco si è perso un po' l'abitudine quale consiglio daresti un ragazzino che vuole fare questo lavoro quello che diede a me Aldo Giordani grande padre della palacanestro toglietelo dalla testa però quel ragazzino avrebbe tutto il diritto di fare quello di sognare come hai fatto tu perché vuoi rinunciare ai sogni di quel ragazzo dell'8 settembre ancora adesso io potevo benissimo non scrivere dei libri qualcuno mi ha scritto lei a 70 anni scrive dei libri toglie spazi a qualcuno a chi scrivelo tu sto libro raccontala tu la vita di Maradona o di Gigi Proietti o di Marco Pantani o di Marco Simoncelli o di tante persone che ho incrociato nella mia vita e quindi mi sono accorto guarda lo dico ai confini della bestemmia e considerando che fra 4 mesi compio ripeto 75 anni io caro Max non ho mai sognato tanto come adesso e ho buoni motivi per te ci fosse Marzullo ci ricamerebbe molto su questa Marzullo avanti per schemi puoi farmi una domanda che mi dia una risposta no no assolutamente no ma però potrebbe essere chi te lo fa fare Marino a 75 anni il sogno ricorrente qual è? ma sai non voglio rimarcare l'età però l'hai appena detto no no ma sono nonno sono padre sono addirittura scrittore mi fa ridere quando nel sottopanza quando in televisione c'è scritto giornalista e scrittore chi io sì pare di sì perché questi libri poi sono diventati anche un caso letterario e tutto sommato devo dire che mi sono accorto che al di là di decenni di cose televisive anche carine tipo l'invenzione di quelli che è il calcio di cui ricorre il trentennale fra qualche giorno e dovrò raccontarla prima o poi quella storia perché perché se ne sono impossessati un po' in troppi però forse scrivere è ancora una delle cose che dà più soddisfazione è l'esperienza più gratificante al di là dei libri televisiva sappiamo il guerri sportivo è là beh sì sono due allora se parliamo di carta stampata il guerri sportivo è stato qualcosa che è difficile raccontare ai più giovani cioè quando io lo sognavo era il più autorevole settimanale e più antico settimanale sportivo d'Europa aveva fatto strada aveva fatto scuola quando adesso la gazzetta fa i titoli calambur non li facevamo 40 anni fa sinceramente perché e questo è stato un po' anche il mio tratto quello di raccontare se possibile anche con leggerezza le cose serie il guerri sportivo aveva una grande credibilità e anche una grande capacità di sdrammatizzare allo stesso tempo però era molto amato e allo stesso tempo autorevole e non faceva sconti a nessuno pur essendo amici di tutti quindi sicuramente quella direzione è stato qualcosa che chi ha 40-50 anni io ogni tanto incontro ancora i miei ragazzi di allora che prima di scuola compravano il guerrino poi ce lo portavano e ogni tanto rileggendolo devo dire che mi prendo quasi paura a vedere certe cose dal punto di vista creativo che io e i pazzi che mi seguivano abbiamo fatto la cosa televisiva più bella è sicuramente quella che è il calcio cioè io credo che come è nata l'idea è nata perché sempre quel bambino un po' rompi i coglioni che si è tanto bussa dice Marino ma ti ricordi quando tu eri bambino e la radio non l'ascoltavi ma la guardavi io la guardavo la radio spero che qualcuno sia in grado di capire quello che dico cioè le partite raccontate alla radio erano molto più belle di quelle con 23 telecamere comprese la flycam perché te le potevi immaginare meravigliose anzi quasi in televisione ti deludevano persino i festival di Sanremo immaginati erano più belli e ho sempre pensato che una trasmissione radiofonica come tutto il calcio minuto per minuto potesse avere una declinazione televisiva nella storia solo due trasmissioni prima di quelli che il calcio aveva erano passate dalla radio alla televisione ed erano il processo alla tappa di Sergio Zavoli e la corrida di Corrado le altre siano sempre impantanate da qualche parte insomma alla fine poi io riuscii ad avvicinare anche perché ormai ero già abbastanza quotato dal punto di vista professionale il direttore di Rai 3 che era Angelo Guglielmi il grande creativo direttore di Rai 3 e gli portai questo progetto che poi era l'embrione di quelli che è il calcio io ogni tanto Max lo vedo lo sono andato a vedere proprio ieri perché voglio scrivere delle cose esatte quando farò il ricordo il 26 per il trentennale e anche lì mi prendo paura perché perché a un certo punto dicevo che comunque dovevamo far vedere in viso i radiocronisti cosa che non era mai stata fatta e infatti le prime edizioni avevano un maxi schermo con le immagini di Ciotti di Ameri di Cucchi di Luzzi che urlava per la serie B di Gentili e tutti gli altri perché l'assunto era che tante volte vedendo l'emozione di chi ti racconta una cosa è ancora più bella che vederla quella cosa poi ci mettevamo qualche immagine rubata degli abbracci degli spalti dei piedi come faceva il grande legista Paolo Paolo Beldi e poi dissi che per rendere televisiva questa trasmissione non bastavano i telecronisti non bastavano in studio ma ci volevano dei personaggi ai quali essere fidelizzati per cui scrissi che lo dico col magone in questo momento che ci voleva un extracomunitario molto fantasioso molto charliero molto colto a modo suo appassionato di una grande squadra e non sapevo che esistesse Idris e poi ci voleva che ne so un religioso o meglio ancora una religiosa che durante la settimana faceva opere di beneficenza al limite della beatificazione ma la domenica si metteva un bandierone e andava allo stadio e non sapevo che esistesse Sor Paolo e così e così anche Teocoli ha dato il meglio di sé imitando Galliani imitando Prisco e poi tanti personaggi li abbiamo trovati veramente per caso perché le primissime puntate almeno per il primo anno avevano e parliamo del 93 avevano un titolo quindi erano trasmissioni a tema per cui oggi parliamo che ne so del condominio e allora si andava a cercare sull'elenco del telefono parlandone da vivo qualcuno che si chiamasse inquilino appartamento custode un giorno mi ricordo che dovevamo fare il tema era la salute per cui cercammo se c'era qualcuno si chiamava dottore medico infermiere malato sano sano c'era era tacaide sano che obblighiamo a diventare tifoso di Vicenza fra l'altro lui era una specie di marziano sulla terra un design giapponese anche di rideva sempre e lo mandavamo alle partite una volta disse Marino ma spiegami una cosa questa cosa che si chiama calcio mi sembra di aver capito ma ma perché invece di dargli un pallone solo non gliene date 22 così non litigano non si picchiano e una volta mi disse ma scusa io sono venuto a San Siro ci ho messo più di mezz'ora a capire che quelli con la maglia rosso-nera si chiamano Milan e quelli con la maglia nera-azzurra si chiamano Inter ma perché nell'intervallo si scambiano le maglie cioè questo è la nostra trasmissione quindi il culmine della sdrammatizzazione con la quale però raccontavamo guarda il calcio è stata una rivoluzione nel racconto dello sport in televisione ha avuto un merito che è quello di far vedere le cose più belle di questo sport ma vi ricordate quando Anna Marchesini la tifosa della Lazio andava a fare la signorina Carlo che faceva la maglia ai bordi del campo mentre giocava alla partita vi ricordate quando Teocoli imitava Mazzone andava in panchina dell'atletico Van Goof anche quello e l'arbitro lo espulse perché non aveva capito benissimo se era l'allenatore se era Teocoli o queste cose però allo stesso tempo abbiamo raccontato forse per otto anni un mondo ideale poi quando uno andava allo stadio vedeva qualcuno che buttava i motorini dal secondo anello di San Siro però è un figlio meraviglioso un figlio di cui sono molto orgoglioso terribilmente orgoglioso prima che ne sottopancia quando compari in televisione giornalista scrittore ed esperto di musica andrebbe aggiunto la musica rimane non parliamo di Sanremo però di musica si se vuoi parlare di Sanremo perché comunque appartiene guarda il televisore entrò in casa mia nel 1958 perché i miei genitori facevano i sarti e mia mamma era sarta da donna e all'indomani dei festi a Sanremo i suoi clienti venivano dicendo ma signora Maria vorremmo il vestito ieri sera aveva Nilla Pizzi a Sanremo e la poverina diceva l'ho sentita la radio Sanremo lei non lo vedeva la radio lo sentiva soltanto per cui fece questo grande investimento di questo televisore e nel 1958 fu l'anno epocale perché fu quello in cui Modugno spalampò le braccia cantò a volare e tutta l'Italia volò con lui l'artista che ti ha più affascinato uomo o donna parli molto nel libro nell'ultimo di Raffaella Carrà sì allora parliamo di un uomo e di una donna Raffaella Carrà è una ragazza della mia terra la cui ho voluto molto bene e che ha rappresentato e le ho dedicato il terzo libro dicendo che ha fatto una rivoluzione silenziosa della quale lì per lì non ce ne si è neanche accorto è incredibile come questa ragazza venuta veramente dal niente si sia applicata con uno spirito di sacrificio che neanche un campione dello sport non c'era nulla che lei facesse che non fosse abbondantemente provato per ore e ore e ore con un talento innato ma anche con una grinta che l'hanno fatto diventare grandissima guarda noi in Italia non abbiamo capito bene quale fossero le dimensioni della sua popolarità internazionale io nebbi la percezione plastica proprio nel primo mondiale che feci cioè quello del 1978 che fu quello in cui conobi Maradona fra l'altro che era aggregato ma non giocone alla nazionale argentina e noi scendemmo da da questo aereo piacevamo con la nazionale allora io ho corso immediatamente in edicola per vedere se sui quotidiani c'era qualche spunto per fare il primo articolo da lì e mi ricordo che nel Clarín che era il quotidiano più diffuso a Buenos Aires e in Argentina vendeva 8-9 milioni di copie non c'era nessun accenno all'arrivo della nazionale di Zoff di Bearzot ovviamente non si parlava di Paolo Rossi che ancora non conoscevano c'era un titolo a 9 colonne 9 colonne su Raffaella Carrà l'apertura del giornale era Raffaella col PH è una L e il carigno che mata la simpatia che uccide perché la sera dopo lei avrebbe esordito al colonne nell'avni da 5 di luglio di Buenos Aires e tutta l'Argentina era sui piedi non per nulla poi le prime piazze le prime vie le prime targhe le sono state intolate in Argentina e in Spagna nel 1978 quindi 78 sì 78 e come dire sembra ieri vedi nascere Pablito vedi vedi delle cose vedi nascere Maradona Maradona aveva non ancora 18 anni e lui sperava di fare il suo primo mondiale che invece fece soltanto 4 anni dopo nell'82 ma gli altri suoi compagni allora le selezioni erano di 22 non di 23 né di 25 né di 26 quindi i 22 dell'Argentina non lo vollero fra i piedi perché capirono che quello era un mondiale che fatalmente avrebbero vinto loro e non volevano dividere per un 23 o un 22 quella quota di gloria per cui Kempe Sardile Sfigliol Bertoni Luque e tutti gli altri dissero amico mio poi tu in nazionale ci arriverai quando è il momento che poi fu subito dopo e fu lì che lo conobbi lo conobbi lì ne raccolsi quasi l'infantile disagio perché ci teneva molto e meritava di essere in quella nazionale poi lo rividi qualche anno dopo perché ed era l'anno in cui stava per passare al Napoli perché allora ero inviato del Guerin Sportivo di cui poi sarei diventato direttore tre anni dopo ed ero a New York perché Bearzot nell'84 stava sperimentando la nuova nazionale che da quella dell'82 campione del mondo doveva difendere il titolo nell'86 in Messico quindi c'erano ancora i vecchi marpioni ma stava provando i giovani come Mancini anzi fu la volta che mandò via Mancini dalla nazionale forse lo sapete questo episodio è destino che Mancini con la nazionale non vada a corte no ma quella volta successe che lui con gli altri giovani che erano Viali De Napoli adesso non mi ricordo chi Ferri Ferri e poi sarebbero stati il core business del mondiale del 90 naturalmente lui giocava in questa partita al Giant Stadium Mancini nel 64 non aveva ancora vent'anni e quindi scusa nell'84 aveva ancora vent'anni e quindi alla fine della partita andò a fare un giro si incamminò per la quinta strada la quinta strada è lunga e quando tornò alle 3 di notte c'era Beazdott nella hall dell'albergo che disse tu con me in nazionale non verrai mai più infatti non aveva percorso solo la quinta strada però vabbè è lunga la quinta strada e quindi mi chiamarono dal giornale dicendo guarda che crediamo che ci sia Maradona a New York non mi ricordo se col Barcellona o con l'Argentina in tournée e a Brooklyn vedi se lo puoi trovare facile e soprattutto se li puoi portare una maglia del Napoli facilissimo andai a Little Italy comprai una maglia del Napoli decisamente improbabile lo trovai si ricordò di me gli dissi che volevo fare la copertina del guerrini sportivo su di lui se mi posava con la maglia e lui capì che tutto sommato si poteva fidare di me che la cosa non gli sarebbe dispiaciuta quindi posò con la maglia facciamo la copertina ho scritto Napoli aspettami e tre settimane dopo diventò giocatore del Napoli da allora è nato un rapporto molto bello ovviamente non eri passato dall'ufficio stampa non ero passato dall'ufficio stampa perché se di vuole non esisteva guarda poi accade una cosa dopo il nostro rapporto diventò bello importante pieno d'amore posso dire culminò addirittura con questo invito al matrimonio però quando io ero direttore dei servizi sportivi di Mediasetta e quindi presentavo Pressing prima di darla poi a Vianello anche quella fu un'intuizione non da poco devo dire noi eravamo i concorrenti diretti della domenica sportiva e quindi cercavamo di avere gli ospiti più importanti per poter competere con questa corazzata della Rai e quindi io cercavo di avere anche perché comunque c'era un gettone di presenza importante i giocatori non è che siano tutti poi così romantici e disinteressati per cui invitai i due più grandi giocatori di quel campionato che erano Bullit e Maradona Maradona non andava alle trasmissioni delle reti nazionali però mi disse per te Marino vengo per amicizia però io gli dissi no guarda che noi abbiamo anche un gettone di presenza molto importante che pagavamo in sterline d'oro e quindi è mio dovere a dirtelo lui mi ripetè se tu mi dici ancora una cosa del genere io non vengo perché ti ripeto che vengo con amicizia Bullit le prese le sterline d'oro anzi il giorno dopo mi ricordo che mi telefonò prese anche i quali di Maradona però mi telefonò la sua compagna dell'epoca perché aveva tante compagne lui perché aveva una dote che non ho mai visto di persona ma insomma però forse molto apprezzata e una giornalista una giornalista no no insomma una dote lui no no ho detto la compagna dell'epoca era una giornalista no direi proprio di no direi di no comunque mi chiamò il lunedì dicendo direttore non avevano concordato questa cifra in sterline d'oro io dissi sì ma non è una cosa di mia competenza però mi sembra che sia stata come dire provveduta alla cosa lei disse no perché oggi la sterline è calata quindi dovete metterne una in più ma anche Maradona ebbe un suo prezzo perché nella galassia di media certo della Finimes come si chiamava allora c'era anche la Baby Record che era una piccola cara discografica per cui incideva Cristina Davena che faceva tutte le sigle dei cartoni animati di allora della tua generazione più o meno quindi andava dall'Ape Maya ai Puffi passando per tutte le altre che chi ha 40 anni lo ricorda e mi disse ho saputo che sta per uscire l'audio cassetta con tutte le sigle dei Puffi e quant'altro cantata Cristina Davena me la puoi procurare in anteprima per la mia bimba che è appena nata quindi il prezzo di Maradona fu un'audio cassetta di Cristina Davena valore commerciale 2750 lire quindi un euro abbondante e quello fu il prezzo della sua apparizione esclusiva questa è la Maradona questa è la Maradona l'ho raccontato poi Cristina Davena che era molto orgogliosa di questa cosa che ti chiese in cambio la maglia di Maradona no però io sono affascinato da tutti questi aneddoti perché mi riportano un po' agli anni in cui insomma da piccolo sognavo anch'io di fare questo questo mestiere e qualche tempo fa quando ci siamo sentiti con lui no in previsione di questa serata gli avevo chiesto se volevamo seguire un canovaccio insomma una scaletta infatti e lui mi disse Max io sono come un jukebox tu mi fai una domanda e io rispondo non so se qualcuno ha un gettone che vuole utilizzare magari i più giovani il jukebox non si ricordano neanche cosa sia io ce l'ho a casa bravo vedi cosa vuol dire avere una certa età prego la domanda è film match canzone e libro eventualmente della tua vita della tua carriera è una domanda veramente crudele questa qui un film cambierei idea nel momento stesso in cui te lo dico perché andrei dal nido del cuculo a Benur e quindi esentami dal fatto di dirti un film a meno che non parliamo di film legati allo sport ma di bellissimi sinceramente non ne ho mai visti un match sai io ero a Sarià il giorno di Italia Brasile quindi devo dire che anche perché si era di mezzo Pablito credo che non l'ho barato con nessuno come incontro vissuto lì come incontro vissuto in televisione poi dell'anno dopo avrei cominciato a fare il giornalista sicuramente Italia Germania a 4 a 3 una canzone una canzone io ho sempre detto che la canzone che ho sempre amato di più di Sanremo devo attingere i miei ricordi che necessariamente non sono i vostri è una canzone del 1965 che si chiama Io che non vivo senza te che è di Pino Donaggio fra l'altro un signore che non è nato molto lontano da qui che adesso fa anche il compositore di colonne sonore meravigliose arrivò ottava nona perché quell'anno come tutti ricorderete vinse Bobby Solo con Se piangi se ridi in coppia con i New Christy Minstras ed è l'unica canzone seppure tradotta in inglese che è entrata nel repertorio di Elvis Presley l'unica canzone di Sanremo che è entrata nel repertorio di Elvis Presley e io che non vivo senza te mi sono accorto che così come mi rappresentava in quel momento poi ha finito per rappresentarmi in tanti altri momenti della mia vita per cui se vuoi una canzone anche se come dire vintage ti devo dare questa per forza è di parte scherzi a parte ora è chiaro che io sono un divoratore di libri in questo momento non solo per amicizia ma mi appassiona molto De Giovanni però ragazzi io ogni tanto leggo questi libri che ho scritto perché un conto scrive un conto legge perdonatemi in un totale momento di modestia io dico posso dirlo cosa dico veramente cazzo marino come sei bravo guarda io voglio leggere una cosa perché a legge nei 4 4 ormai parlo del quarto perché poi se volete vi dico anche più o meno cosa sta per uscire dopo aver fatto voto solenne che non avrei fatto il secondo dopo aver giurato e scritto che non avrei fatto il terzo dopo aver detto in tutte le salse giurando temo anche sui miei nipoti spero di no che non avrei fatto il quarto però a legge un personaggio sapete come Hitchcock che appare sempre nei suoi film con un cameo allora nel primo nel primo libro appare un giornalista misterioso di cui non faccio il nome che si chiama Baffo Nero appare perché mi piaceva raccontare questa storia come è avvenuta perché nessuno conosceva il rapporto fra Lucio Dalla e Ferrari ma Baffo Nero fu il tramite di questo incontro così mi ha detto Baffo Nero naturalmente di cui non rivelerò mai l'identità perché Dalla nel 76 aveva appena scritto Automobili che era il terzo album del tritico meraviglioso scritto con Roberto Roversi e quel disco secondo lui non poteva non piacere a Ferrari perché parlava dell'epopea dell'automobile c'era il motore del 2000 mille miglia l'intervista all'avvocato Nuvolari per cui chiesa Baffo Nero se si poteva conoscere Ferrari e Baffo Nero si fece tramite attraverso francangio da vivo di questi incontri solo che Dalla non riusciva a non essere Dalla e Ferrari era Ferrari quindi si presentò a questo incontro col cappello da cowboy con una pelliccia di lupo senza maniche e con gli stivali texani Ferrari lo squadrò dall'alto in basso ed era facile perché Ferrari era alto un metro e novanta e Dalla era un metro e cinquantacinque trattabile e già si insospettì ma quando Dalla volle fare lo spiritoso e disse ah ma lei è quel signore che costruisce le macchinine rosse da corsa allora Baffo Nero alzò gli occhi al cielo e cercò di sparire francangelo inorridì e Ferrari disse a dottor Gozzi faccia fare un giro al reparto corsa a questo signore poi alla fine gli regali una macchinina rossa da corsa Baffo Nero pagò duramente il fatto che era stato il mediatore di questo incontro venne addirittura squalificato ed escluso dalla cena di fine anno che era una cosa molto umiliante poi qualche mese dopo Francangelo cioè Franco Gozzi lo richiamò a Baffo Nero gli disse guarda che il comandatore si è ripensato gli piace quel tizio ha capito che cos'è allora Dalla tornò e nacque qualcosa che assomigliava a un'amicizia nell'ultimo libro invece quando racconto di Mennea racconto del fatto che Mennea è stato un vero eroe dello sport italiano perché ha sempre resistito ad ogni tentazione perché malgrado la natura non l'avesse fornito di qualcosa di straordinario dal punto di vista fisico lui batteva gli altri veramente con l'applicazione con la tenacia con un sacrificio quasi monacale e un bel giorno lui chiamò Baffo Nero di cui si fidava molto e volle fare un'intervista che non voleva affidare ad altri durante le Olimpiadi di Seul dell'88 per dire qual era stato il suo disprezzo per il doping che cosa si era giocato dal punto di vista delle vittorie non aderendo a quei progetti e che comunque lui così era e così voleva continuare ad essere certo che Pietro è veramente un personaggio fantastico per pulizia interiore per disponibilità quel che vedo anche per senso pratico lei sta seguendo tutto vero Raffaella perché Pietro in questo momento sta aiutando questa ragazza a diventare campionessa d'atletica sì sì commendatore passo per passo Pietro è molto discreto nel suo intervento allo stesso tempo molto efficace non ha davvero bisogno di alcuna assistenza sono rimasto molto colpito da alcuni consigli che ha dato a Eleonora non tanti suggerimenti di carattere tecnico che ovviamente sono frutto della sua competenza ma soprattutto le raccomandazioni legate alla religione del sacrificio che poi è sempre stata anche la mia dice la Carrà e all'integrità morale non credo che per lui sia stato molto facile restare puro in un mondo come quello sportivo che offre davvero una miriade di tentazioni lui gestava ogni forma di doping intervenne un fillì silenzioso francangelo e una volta lo volle anche se non urlare quantomeno puntualizzare durante le Olimpiadi di Seul le quinte consecutive a cui partecipò un record imbattibile se si parla di un velocista si rivolse a un giornalista di cui si fidava gli rilasciò un'intervista di cui si parlò parecchio guardi comandatore ho ancora qui per caso il ritaglio del guerri sportivo e legge questo articolo a conclusione del quale dice i giochi olimpici di Seul comandatore si disputarono pochissime settimane dopo che lei era salito qui nel luogo Ferrari morì a ferragosto dell'88 la gara dei cento metri la vinse un tale Ben Johnson che era dopato fino agli occhi letteralmente abbruttito gli annabolizzanti che per pochi giorni e che pochi giorni dopo venne rimandato a casa non prima di aver restituito la medaglia rubata in pista sa come si conclude l'intervista che le ho appena letto con la domanda del giornalista tu che qui a Seul sei stato l'alfiere dell'Italia durante la sfilata inaugurale cosa portavi con te assieme a quella bandiera lui rispose la mia correttezza e la mia onestà caspita bello il giornalista chi era? eh lei l'ho conosciuto bene ricorda lo chiamavamo Baffo Nero ma certo un ragazzo serio apparentemente un po' timido ma sapeva fare bene il suo lavoro con lui parlavo sempre volentieri perché era molto scrupoloso e anche molto leale nel riportare quello che gli dicevo e non tutto poteva essere pubblicato non mi dica che è qui nel luogo anche lui mi dispiacerebbe oltretutto era così giovane beh il comandatore è proprio giovane non più cosa vuole il tempo soprattutto sulla terra passa per tutti comunque non è morto è vivo sta abbastanza bene ho saputo che si diverte a scrivere dei libri ti diverte ancora a fare questo mestiere? sì sì mi diverte molto ancora più adesso che che seguo soltanto il mio istinto le mie passioni non c'è più la pressione la voglia di fare quello che mi piace fare e poi questi libri devo dire a parte il successo mi hanno dato mi hanno restituito la gioia di scrivere ne avevo bisogno per tanti motivi di miei percorsi di vita personali anche dolorosi perché avrei fatto contento una persona se fossero stati scritti prima questi libri e poi vedo vedo l'affetto della gente io guardate tu sai bene Max perché fai questo mestiere che un conto è essere in uno struttore televisivo avere davanti un oggetto di ferro e di vetro che è una telecamera qualche amico a volte anche un po' di pubblico puoi avere anche 5 milioni di persone dall'altra parte ma non hai la percezione della loro reazione invece io quando vengo in posti come questi credetemi lo dico adesso perché la cosa si sta concludendo vedo in un luogo così bello davanti a me delle persone attente credo che mi danno affetto che mi danno stima che mi danno calore ecco questo è il premio di tutto questo io vi ringrazio per quello che mi state dando prima di chiudere visto che facevi riferimento poco fa vogliamo spoilerare il quarto libro della serie giusto un assaggio ok diciamone un paio dai molto molto semplicemente no no ascoltiamo un attimo no no sentiamo le domande prima le domande scusa scusate l'interruzione scusa se ti do del tu marino ma ho 32 anni e ti conosco da sempre praticamente e il privilegio di averti anche così vicino e percepirti sono quelli di 70 anni che mi dicono la conosco da quando ero bambino nel mio caso invece può essere anche una cosa anche positiva hai l'età di quelli che è il calcio ecco tra l'altro un bel ricordo niente visto che hai la conclamata capacità di attingere dal passato elaborare nel presente e tendere al futuro che non è da tutti i giornalisti vorrei sapere per te qual è la prossima cima a livello o personaggio o momento sportivo che vorresti approfondire o vivere cosa preferiresti se fosse domani ascoltare un personaggio o vivere un momento guarda credimi lo dico con totale realismo detto che ho avuto la fortuna di incontrare veramente tanti tutti che mi manca nella mia collezione panini uno con moad medali non c'è nessuno in questo momento che potrebbe darmi queste ispirazioni va bene così va bene quello che ho fatto complimenti grazie ultima domanda dopo poi la aspettiamo tanto ci devo fino a mezzanotte ah perfetto buonasera intanto Bartoletti e volevo fare una domanda secondo lei qual è la rivalità sportiva più affascinante di tutti i tempi guarda devo attingere pesantemente al passato perché perché è una rivalità che ha dato speranza all'Italia cioè quella fra Bartoli e Coppe mi rendo conto che la risposta sia da Boomer però certe cose vanno studiate e quella rivalità non si è mai non si è mai più replicata anche perché non era una rivalità era loro certamente non rivale dal punto di vista sportivo ma messi assieme diedero all'Italia quella moto di orgoglio e di speranza che forse nient'altro poteva aver dati in quel momento addirittura Bartoli ha cambiato la storia di questo paese loro cominciarono Coppe come Gregario di Bartoli perché Coppe aveva vent'anni quando Bartoli era il più grande ciclista del mondo e nel giro del 1940 qualcuno disse prendi lo sto ragazzo è una persona leale non ti farà scherzi e non gli fece scherzi perché durante quel giro d'Italia Bartoli cadde dopo alcune tappe quindi non era in grado di poter competere almeno non era garantito che potesse competere per la Maglia Rosa fino a che nella tappa da Firenze a Modena attraverso la Betone Coppe disse al suo direttore sportivo Pavesi posso andare in fuga visto che non devo stare vicino al capitano andò in fuga e vinse con nove minuti di vantaggio indossò la Maglia Rosa la sua prima Maglia Rosa e la sua prima vittoria al Giro d'Italia ancora adesso Coppe è il più giovane vincitore Coppe suona le campane campane intelligenti Pino Daniele e Coppe potete suonare anche per Baggio anche se è vivo e quindi lui arrivò con la Maglia Rosa è ancora adesso il più giovane vincitore del Giro d'Italia vent'anni e poco più arrivò a Milano all'arena con la Maglia Rosa il 9 giugno del 1940 si apriva un mondo davanti a lui era il momento di una carriera straordinaria il giorno dopo un signore si affacciò a piazza Venezia e dichiarò guerra alla Francia e all'Inghilterra l'Italia entrò in guerra e quindi non solo Coppe ma tutta l'Italia tirò giù la saracinesca della speranza e quando Coppe dopo due anni di prigionia tornò in Italia e qualcuno a Napoli dove era arrivato con una nave ospedale gli diede una bicicletta con cui lui tornò a Castellania è chiaro che aveva perso i cinque anni più importanti della sua vita sportiva anagraficamente parlando per non parlare di Bartali che aveva perso gli anni che andavano dai 26 ai 31 eppure Coppi ebbe ancora la possibilità di riprendere questo filo della speranza da dare agli italiani guardate nel 1946 e scusate se parlo di cose antiche ma è utile saperle mentre neanche la Francia paese vincitore ebbe il coraggio la fantasia l'incoscienza di organizzare il Tour de France l'Italia nella sua follia nella sua creatività nella sua genialità organizzò il Giro d'Italia e l'Italia non c'era e non c'erano le strade e non c'erano i ponti e non c'era nulla eppure trovarono 98 disperati affamati in mutande con altrettante biciclette che percorsero questa Italia sapete quel gioco della stima enigmistica dove c'è scritto unite i puntini un en di puntini di quel Giro d'Italia venne fuori l'Italia e qualcuno disse caspita ma questi hanno voglia di vincere hanno voglia di vivere dobbiamo prendere esempio da questi ragazzi e addirittura in quel Giro accade una cosa pazzesca ogni tanto si fanno polemiche per il fatto che il Giro va all'estero non parte dall'estero quel Giro andava all'estero andava a Trieste che era in maniera artefatta al di là di un confine innaturale quindi Trieste è la più italiana delle città italiane per cui avevamo fatto una guerra mondiale per averla assieme a Trento non era italiana eppure l'organizzatore del Giro disse visto che non lo fanno i politici visto che non lo fanno i diplomatici portiamo una carezza ai nostri fratelli oltre Lisonza andiamo a Trieste e nella tappa fra Rovigo e Trieste sul Lisonzo a Pieris città che sarebbe diventata famosa perché ci sarebbe nato il capello i partigiani di Tito bloccarono prima a Sassate e poi con colpi d'arma da fuoco il Giro la polizia stradale che non era ancora nata perché nacque l'anno dopo ma comunque 12 disperati su altrettante moto che erano delle guzzi falcone residuato bellico della guerra di Russia e due BSA che vuol dire British Service non so che cosa che definivano bisognerebbe saperci andare accettarono questo confronto a fuoco e aprirono la strada i corridori la tappa venne neutralizzata ma i corridori arrivarono a Trieste e vinse un triestino Giordano Couture e vinse in un trionfo di bandiere cioè italiane la cosa più proibita che ci fosse in quel momento e tornò l'italianità almeno per un giorno e fu il giro d'Italia a portare questa carezza di italianità a Trieste che qualche anno dopo sarebbe tornata italiana ecco lo sport è questo ragazzi lo sport è quello che fa commuovere perché racconta la storia con la S maiuscola di questo paese grazie per i tuoi racconti e gli aneddoti insomma di una vita che è bene conservare nell'arca e esatto questo e tanto altro e grazie a Bassano del Grappa questa fantastica location a Emanuela Cananzi che è l'anima di questo festival e a Roberto Iena che è il regista e non compare grazie Massimiliano e visto che bene o male siamo tutti viaggiatori buon vento a tutti grazie e buona serata grazie